Ciao ragazzi, bentornati su un nuovo video, siamo qui su Diablo Ressuretti per due anni. Eh, bene. Andremo avanti. Qui dobbiamo fare l'ultima missione del primo atto. Ok. Aiuto. Andiamo avanti. Le sbarre non possono fermare una forza della natura. Ah, quindi dovevamo fare le sorelle del massacro. Mi scelta. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Andiamo a la forza. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 . Sì. 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 il peso è eccessivo non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio un po' di roba 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 Eccoci qua. Il peso è eccessivo. 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 Non ce la faccio. Il peso è eccessivo. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Il peso è eccessivo. Sì, non è vero. Perfetto, guardiamo. Facciamo un bel portale, ci siamo arriviamo. Ci siamo qua. Qui pariamo? Ok, uccidiamo. Andiamo. Ok, uccidiamo. Il riso è eccessivo. Il riso è eccessivo. Non ce la faccio. Una bambina, una maledetta. Il riso è eccessivo. Perfetto. Non ce la faccio. Il riso è eccessivo. Perfetto. Non ce la faccio. Bene ragazzi, io vi saluto qui. Abbiamo fatto andare. Ci vediamo. Andiamo. Ciao a tutti.